La Prano Art ci racconta, e racconta Francesca Selemme in realtà, i suoi prossimi impegni da pittrice. 6 settembre da Agropoli, una personale di pittura, anche naturalmente delle opere che raccontano la Prano Art. Che cos'è? La Prano Art in pratica è un movimento artistico che ho fondato nel 2014. E vuol significare appunto energia positiva attraverso i miei quadri, attraverso la mia pittura, i colori che uso. Sta realizzando quelli che saranno poi i premi che verranno consegnati a Furore per il premio giornalistico Furore. Le targhe sono comunque composte da un mio dipinto per ogni targa ovviamente. Saranno una decina se non sbaglio. Quindi un regalo, diciamo, un omaggio originale. Ma con Furore esiste una collaborazione anche recentemente, ai tuffi delle grandi altezze? C'era qualcosa di suo? Si, doveva esserci. Invece a settembre parteciperò con un murales proprio a Furore. Muri d'autore? Esatto, muri d'autore. E ci puoi raccontare che cosa verrà, qual è l'idea che la guida in questo murales? Come al solito è il mio istinto, quindi io non programmo mai quello che dovrò fare. È tutto al momento. E vedo dopo anch'io quello che succede, quello che ho realizzato. Già era stata premiata qualche anno fa? Sì, nel 2015 c'è stato street art con Venezia Montecarlo, con la regata, insomma, dove sette città italiane hanno partecipato e anche Salerno ovviamente. E io ho partecipato con l'arte e ho vinto questa edizione. Invece a Velia si è concluso il ventennale della razza.